Buongiorno ragazzi L'ultimo secondo di poter fare la diretta di oggi e di poter far uscire almeno un video a settimana però mi fa molta fatica a mettermi al computer soprattutto per la testa perché le luci dirette mi danno fastidio mi fanno venire assolutamente un mal di testa e quindi per il momento non è una cosa che non posso fare non come vorrei quindi piuttosto che fare qualcosa di così campata in alto aria e a tira via preferisco aspettare rimettermi in salute e poi riprendere a pieno regime appena appena posso di certo non mi aspettavo di finire in quarantena è una di quelle cose che uno si dice sempre ma capita agli altri a me non capiterà mai io sono forte e invece mi è capitata ora ho 24 ore al giorno per poter ragionare pensare su tantissime cose e anche questo ero su dati positivi sinceramente in effetti sì dai in tanti di voi mi state scrivendo sia su instagram facebook via whatsapp chi ha il numero per darmi il vostro conforto e vi ringrazio e ho scoperto che tantissimi di voi o hanno fatto o sono attualmente in quarantena quindi vedo che è qualcosa che sta affligendo tantissimi di noi quindi vi mando un abbraccio fortissimo vi dico a chi ancora in quarantena come me forza fatti coraggio insieme tutti quanti ne usciremo quindi portiamo pazienza perché una situazione del genere bisogna avere solamente pazienza e accumula tutte quante le forze che si possono avere per sconfiggere questo questo nemico invisibile e quindi ragazzi forza uniamoci insieme e ne usciremo e a breve vedrete che torneremo tutti quanti in moto come noi vorremmo poter fare ora vi chiedo solamente ragazzi di avere un po' di pazienza di non scomparire e di farvi ritrovare pronti appena sarò disponibile vi torrò aggiornati su tutti i miei social anche qua su youtube e su come sto e su quando appena potrò far ripartire le operazioni però giusto il tempo della quarantena ragazzi mi raccomando fatevi trovare sempre pronti ciao a tutti quanti